ok ciao ragazzi questo è il mio iphone iphone x e non sta caricando più come vedete inserita ma non carica a volte carica volte non carica come vedete non va in carica questa qui è la soluzione che io vi do per iphone x iphone xs xr xs max in caso dovesse avere questo problema prima di portarlo in un centro assistenza fate questa pratica se non funziona è probabile che questa qui è la soluzione che io vi do per iphone x iphone xs xr xs max in caso dovesse avere questo problema prima di portarlo in un centro assistenza fate questa pratica se non funziona è probabile che voi abbiate un problema più grosso quindi vi faccio vedere vi faccio vedere questo è il mio ok è una cosa che è una pratica che io faccio sempre prima quando mi portano un telefono che ha questo problema con una pinzetta se non ce l'avete con quello che usate per estrarre la car la sim card potete fatte così questo prima fatto prima di andare in un centro assistenza e guarda guarda questo qui è il cotone che si trova dentro i pantaloni o comunque guardate guardate sul fondo è vero venire andete conto ma quando infilate la spina volo pressate sul fondo quindi fatelo bene fate una bella pulizia ogni tanto va fatta soprattutto quando vedete che non sta caricando fate una bella pulizia quando vedete che è bello pulito il fondo a quel punto il telefono non dovrebbe più dare problemi guardate cosa è venuto fuori questa roba qui non permette alla spena di andare dentro prova del 9 cavetto in carica questo trucco ve l'ho spiegato sicuramente se lo portate in un centro assistenza senza averlo fatto può essere anche che ve lo facciano loro ve lo facciano pagare come una riparazione quindi il mio consiglio personale fatelo voi prima se chiaramente se questa cosa non funziona o significa che voi avete un problema diverso a quel punto ci sarà cambiare il connettore di ricarica e queste cose qua e a quel punto andate in un centro assistenza detto questo se vi fa piacere iscrivetevi al canale lasciato un like al video e soprattutto come scrivete nei commenti come avete fatto nei precedenti video di questo tipo che sono stato bravo grazie ciao